Da tre generazioni l'Hotel Sardi è una delle strutture alberghiere di riferimento per i sempre più turisti che, alla ricerca di tranquillità e relax, scelgono Pomonte come meta per la loro vacanza. Costruito nel 1969 dalla famiglia Sardi, oggi è gestito dalle giovanissime Laura e Chiara. Per loro l'albergo è come una seconda casa. Gestiamo io e mia sorella che l'albergo è nato dai nostri genitori nel lontano 69, quando ancora c'erano i miei nonni, quindi ti trasmette un qualcosa che diciamo noi siamo nate qui, siamo cresciute qui e quindi la vedi come casa tua, quindi dai il massimo. La stagione dell'Hotel Sardi è molto lunga, inizia già a fine marzo e si protende fino a novembre inoltrato. Contrariamente ad altre strutture albane, ogni camera è quindi equipaggiata anche di riscaldamento, tant'è che negli anni passati non sono mancate le aperture straordinarie per Natale e Capodanno. Ed è proprio in bassa stagione, secondo le titolari, che la Costa del Sole offre il meglio di sé. Le spiagge non sono più affollate, si può godere di un bel bagno in tutta tranquillità.